Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni in una intervista al settimanale Chi dice che il suo bilancio personale è questo. Dice proprio così, testuali parole, il mio bilancio personale è che non avrei potuto fare di più. Tanto che quest'anno penso di dovermi imporre qualche giorno di riposo, più del solito. E così, prima della pausa estiva per la Puglia, dove è stata anche con i leader del G7, la Presidente del Consiglio fa anche un bilancio politico della sua azione di governo, dove dice stiamo risolvendo molti problemi ma molti altri vanno ancora risolti. In questa lunga intervista a Chi, che sarà in edicola domani, il 7 agosto, si affrontano temi politici, i dossier più delicati sul tavolo del governo, ma anche argomenti che riguardano anche la vita privata, conciliare il ruolo di madre con quello di capo del governo, dato che oggi vive da sola praticamente, tra virgolette crediamo. La Meloni dice non avrei potuto fare di più, dovrò prendermi qualche giorno di riposo. La Meloni quando è arrivata al governo, dopo qualche settimana, aveva subito detto che le giornate sono praticamente, si svolgono nel risolvere un problema dietro l'altro. Lei si era fatta un programma, un programma settimanale, mensile, delle cose da fare, ma tutto viene spostato, cambiato, trasformato perché è tutta un'emergenza continua, ogni giorno c'è qualcosa da risolvere di imprevisto. Un po' quello che succede anche nelle grandi aziende, nel senso che, per esempio, faccio un esempio personale, una mia esperienza personale, quando lavoravo come dirigente d'azienda, io ho lavorato nel settore delle vendite, come direttore vendite, direttore commerciale, la giornata o le giornate sono fatte per risolvere problemi, il problem solving, quando ti assumono e ti chiedono se tu sei portato per lo stress, per risolvere i problemi. Il mio compito non era nient'altro che dalla mattina alla sera risolvere problemi. Quello ha combinato quello, quell'altro ha fatto quell'altro, quello non vende, quello vende troppo, quello vende poco, quello vende a giorni alterni, quell'altro i rimborsi spesa, il prodotto che non arriva, il prodotto che arriva prima, dopo, non si produce, tutto il giorno a risolvere problemi. E vi dico che non è stata una bella vita, assolutamente vi posso dire che quei soldi in più che guadagnavo non giustificavano quel tipo di vita, è meglio prendere e guadagnare meno soldi e avere una qualità della vita più alta, perché probabilmente è lo stesso che succede a Giorgia Meloni adesso, prima quando era l'opposizione o come la gran parte dei politici, quei 600 politici che ci sono in Parlamento, di cui nessuno sa nome e cognome, dei perfetti sconosciuti, quanti ne conosciamo? 15, 20, arrivate a dirmi 20 nomi di politici e dopo gli altri 580 chi sono? Dei perfetti sconosciuti, che chiamano onorevoli, che lavorano, diciamo, l'impegno lavorativo è proprio pochino, come diceva Fioramonti dei 5 Stelle, vi ricordate il ministro dell'istruzione, raccontava che lui stava vivendo in Sudafrica, faceva lì il professore universitario e diceva che era una noia incredibile, ma venire in Italia a fare il politico era ancora peggio, non c'era assolutamente nulla da fare, niente di niente. Ecco, quando tu sei all'opposizione o sei un politico che non fa il ministro, eccetera, eccetera, non hai praticamente assolutamente nulla da fare, quindi la vita di Giorgia Meloni deve essere cambiata drasticamente. Quando era all'opposizione credo che il tempo libero fosse davvero abbondante, oggi credo non riesca neanche a guardarsi due secondi di telegiornale, per esempio, o leggere un minuto un giornale, credo che non avrà tempo per nulla, il telefono squillerà tutto il giorno, avrà tutto il giorno qualcuno che le dirà c'è un problema, c'è un problema, che facciamo, cosa diciamo? E per questo ovviamente la capisco perché a volte uno dice ma non è vita quella, ti alzi la mattina, vai a risolvere problemi fino alla sera in un posto di lavoro dove il tuo tempo è vincolato, o meglio il tuo tempo è affittato da qualcuno. Quando voi lavorate, affittate il vostro tempo a qualcuno in cambio di una retribuzione oraria e quell'imprenditore paga a voi, non lo so, 15 euro l'ora, affitta il vostro tempo 15 euro l'ora, ma quel 15 euro l'ora a lui deve rendere almeno 30 euro l'ora, cioè vi paga, paga il vostro tempo ma il vostro tempo a lui, all'imprenditore, deve fruttare almeno il doppio. Questo è il lavoro, affittare il proprio tempo a qualcuno e mentre affitti quel tempo lì praticamente tu stai vivendo una realtà alternativa, stai vivendo per altri, per un'altra cosa, è tempo tolto, però come voi sapete bisogna lavorare. Sono pochi quelli che vivono di rendita, ecco, o con i soldi dei genitori, lasciati dai genitori, o con gli investimenti. Quindi posso capire che la Meloni voglia qualche giorno di riposo in più del solito, ecco. Poi dice non avrei potuto fare di più, questo è il massimo del bilancio personale di questi due anni di governo. Nei prossimi video vedremo altre dichiarazioni che vengono fuori da questa intervista al settimanale Chi. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci, a presto. Ricordatevi Teleitalia Seconda Rete che è l'altro canale dove c'è almeno un video al giorno come questo.